Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul molto molto particolare perché sono stata da Primark. Sapete tutti che in Sicilia, quindi a Catania, si è aperto Primark, quindi è molto grande, siamo tutti contenti, eccetera eccetera, ma purtroppo all'apertura c'era una confusione pazzesca. Io quel giorno non ci sono potuta andare perché avevo dei problemi di sellute e quindi non ci sono potuta andare, però ho pensato, vabbè, faccio passare un po' di tempo e poi vado. Non fosse stato mai, sinceramente, perché vedevo su TikTok tantissime persone con una calca incredibile, quindi una confusione enorme per cui c'erano le transenne, c'erano dei... al botteghino dovevi prendere il numero per entrare, cioè una cosa sinceramente troppo troppo particolare, specialmente in questo periodo che stiamo vivendo. Quindi con la mia amica abbiamo deciso di rimandare, diciamo, la spesa oppure il giro per quanto riguarda Primark. Ero molto molto indecisa perché ero molto curiosa, desideravo tanto andare e tutto, però sinceramente preferisco tutelarmi visto che c'era tutta quella confusione. E quindi siamo andati da Primark e qui ho proprio il sacchettone che mi ha preso la mia amica, però prima vi volevo far vedere una cosa e poi iniziamo con Primark. Ho acquistato da Zuiki, sono stata da Zuiki perché volevo un teddy. Vi spiego anche il motivo perché ovviamente in tutto c'è una spiegazione. In questo periodo di pandemia, non pandemia, pandemia, non pandemia, la mia uscita è casa mamma mamma casa, casa mamma mamma casa. Quindi spesso mi vesto con la tuta perché essendo che fa freddo le tute felpate mi trovo benissimo. Automaticamente volevo qualcosa che si abbinasse a queste tute. Ogni volta vedevo su internet oppure su Instagram molte ragazze che indossavano le tute con il teddy e quindi avevo questa voglia di comprarmi questo teddy. Non l'ho trovata da nessuna parte, nel senso qualcosa che mi piaceva ma che non era troppo elegante perché io ho delle cappottini, delle giacche più eleganti ma non c'entrano niente con la tuta. Quindi volevo qualcosa di sportivo e quindi l'ho preso da Zuiki come vi ho detto e ho preso questo che è un cappottino, un teddy semplicissimo, nero perché il nero lo abbiniamo dappertutto e preferisco nero sinceramente perché ho la maggior patta delle tute tutte colorate, preferisco nero. Comunque il solito teddy con il colletto così doppio, non so se si vede perché col nero, con il colletto così e oversize, infatti la manica mi arriva qua sotto e io ho preso, perché ho trovato solo questa, l'AML e l'ho pagato 30 euro invece di 49. Io l'avevo visto da Piazza Italia, uno simile che mi piaceva ma la differenza di prezzo era minima, nemmeno 3 euro, 4 euro che siano. Cioè lo sconto dov'è? In questa situazione dov'è lo sconto? E quindi ho preso questo, mi piace molto, la manica è lunga, vabbè c'è qualche filo che adesso lo devo tagliare e poi mi piaceva anche il fatto che la tasca non era quella dritta ma è quella trasversale, quindi quando camminate potete mettere le mani in tasca e poi ha il bottone, non lo so se si vede bene, in caso vi metterò la foto su Instagram quando lo indosserò. Comunque è molto molto bello, io lo desideravo tanto e quindi l'ho voluto prendere. Come acquisti ho fatto poco perché sinceramente non ho tante esigenze perché stando sempre a casa non è che mi compro un vestitino per fare cosa? Per pulire la terra? No. E quindi è inutile. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso da Primark, la mia amica mi ha preso la busta quella grande perché lei ha fatto la fila, perché soltanto una persona poteva fare la fila quindi l'ha fatta lei anche se mi hanno dato la busta ovviamente di carta, però come prima volta abbiamo deciso, cioè lei ha deciso da sola di prendere il sacchetto proprio adatto. Allora, sempre per il fatto per quanto riguarda andare a casa di mia mamma e fare il giro qui del quartiere, ho preso il di sotto delle tute perché se avete visto il video dell'anno scorso per quanto riguarda i saldi, avevo preso delle felpe, avevo preso la felpa di SpongeBob, avevo preso un'altra felpa tutta macchiata e quindi volevo i pantaloni. Per quanto riguarda SpongeBob ho preso questi non sapevo che davano anche le crucce. Ho preso questo, ovviamente io prendo la XL se non mi sbaglio ho preso sì, la XL, non mi dite la misura è questa, io la prendo non mi piacciono le cose aderenti, specialmente le tute, le tute non devono essere mai aderenti quindi preferisco prendere una misura in più, ma che mi sia bella comoda, che sono tranquilla che non mi faccio la forma del fondo schiena, io sono fatta così. Poi ognuno fa quello che vuole perché ho visto video di ragazze dove dicevano, ah quella prende quella misura, che schifo di qua di là la salute è tutto. Quindi ho preso una XL pagata 7 euro invece che 16 e mi piaceva il fatto che fosse così tipo macchiato perché il verde che dico io è questo e quindi è un pantalone semplice con la tasca dietro qui, non ha laccetti per stringere, infatti questo spero che non sia un problema e poi la parte finale ha sempre l'elastichino per stringere il polso, per stringere la camiglia questa è una frecciatina a mia commare, lei sa perché. Comunque questo è il pantalone, ha le tasche anche qui davanti e devo dire che mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto e quindi l'ho voluto prendere. Vediamo se mi ci trovo bene perché ancora li devo provare, perché queste cose le ho comprate ieri, ora sto facendo il video perché ieri veramente non riuscivo, il freddo che si crepava e quindi amen. E poi l'ho preso di questo beige che non è grigio perché grigio ce l'ho, questo è il mio capello, ciao capello, lo volevo con il beige ed è questo, la stessa identica forma di pantalone, lo stesso prezzo, la stessa, dove è il prezzo? Qui non c'è nemmeno l'etichetta, comunque è lo stesso identico pantalone con sempre l'elastico qui sotto, l'elastico qui in vita e la tasca. Io questi li adoro, li metto tranquillamente, metto la tuta, poi metto il cappotto di sopra e io esco felice e contenta. Sono leggermente felpati dentro, che era la cosa che mi interessava di più e anche questo il prezzo era uguale, perché era nello stesso stendino. E questi, poi sempre per quanto riguarda il freddo che Stefania soffre, ho preso due calze di quelle abbastanza massicce, che sono due Paris Thermal, quindi sono quelli proprio per non sentire il freddo, e li ho presi 4 euro, la mia misura, cioè io, la misura è 37,42 e le ho pagati 4 euro, e sono questi. E ci sono con questo grigio, questo grigio e con questo qui, che sarebbe un panna che poi riporta il grigio, aspettate che ve li faccio vedere, tanto questi li devo lavare, riusciranno i nostri eroi? Aspettate perché non voglio che si rompa, dove è la forbice? Quando la cerchi la forbice non c'è mai! Io orba sogno! dai! Aspettate perché non vorrei che si fa il buco. Allora, le calze sono queste, sono quelle proprio belle imbottite, belle spugnose e pesanti. Ne ho presi due per vedere come sono, in caso che poi mi trovo bene ne prendo altre. Questa è la calza e la cosa che mi piace di più è la parte interna, che è bella, proprio si sente la lanetta, ed è stretta qui, perché non mi piacciono quando si allargano. Ecco, quello che non mi piace che fanno gli asticini quando li togli. E poi, le altre sono bianche, cioè sono panna con i disegnini, che è questo. Poi, andiamo avanti, sempre per quanto riguarda lo stare a casa, ho preso questa, non l'ha apro perché già l'etichetta si legge benissimo, in caso poi ve la faccio vedere. L'ho pagata 16 euro e questa è una XSS. Io quando l'ho letto ho detto no, no, vabbè, non la posso prendere. Invece tramite una ragazza che lì stava guardando le stesse cose che stavo guardando io, c'erano alcune che erano aperte, infatti abbiamo visto che erano enormi e quindi io le ho prese. Io di solito utilizzo le vestaglie, quelle grandi, in ciniglia, e io sono tranquilla con quello, anche se mi sporco, tipo, che so, sto cucinando, non mi interessa. E questa mi piaceva tantissimo, c'era sia così che grigia. Ero indecisa nel prenderle uno o l'altro e poi ho preso questa qui rosa perché l'ho vista aperta e mi è piaciuta. Ve la faccio vedere, è tipo una specie di vestaglia, però invece di, diciamo, di avere l'apertura davanti è a sacco ed è molto molto grande, cioè è come la vedete proprio oversize, come la vedete qui nel disegnino. Non ho trovato pigiami, pigiami più particolari, non li ho trovati sinceramente, quindi pacevoli. Poi ho preso delle mutande, però io queste cose non le faccio vedere, non per qualsiasi altra cosa, se vi dico la misura dei pantaloni capite anche la misura delle mutande, però non mi piace proprio il fatto di farli vedere. È una cosa mia particolare. Poi ho preso per curiosità, solo per curiosità, un pacco di salviettine. Perché ho preso solo queste? Perché ho un bel po' di salviettine comprate a un euro, eccetera, eccetera. Però ero molto curiosa, ho detto vabbè, voglio vedere come sono, visto che tutti ne parlano benissimo. Io ho preso questo al cetriolo, al cucumber, questi verdi. E niente, a un euro e cinquanta queste le ho prese, sono due confezioni. Poi ho preso una cosa per fare i capelli ed è di Winnie the Pooh. Questa l'ho pagata tre ore e cinquanta ed è il pettine per districare i capelli, specialmente chi ha i capelli ricci o permanente come ce l'ho io. È adatta proprio per questo motivo. Infatti, vabbè, questo è un pettine per i capelli, lo possono utilizzare chiunque. Speravo veramente che c'erano altri disegni, perché a me Winnie the Pooh piace tanto. Nel senso, mi piace, però io sono più per stitch e quindi speravo che c'era qualcosa in più, invece non c'era e quindi ho preso questo. Spero di trovarmi bene con questo prodotto, però, è per pettinare i capelli. Poi ho preso questi, che sono dei barattolini in bambù, qui c'è scritto, barattoli da viaggio. Sono tre ore e cinquanta e sono di tre dimensioni diversi. Questi li ho presi perché devo travasare dei fondotinta, cioè un fondotinta che è quello di Essence, che è quasi finito. Non riesco a prelevarlo, quindi adesso lo metterò a testa lì in giù e quindi travaserò il contenuto qua dentro e poi in caso vi farò vedere. L'ultima cosa che vi faccio vedere è quello che io desideravo di tutto, proprio quando io li vedevo, li volevo tutti assolutamente, ma non ho trovato la mamma e sto parlando di chicco. Questo chicco adesso lo metterò qua nella mia postazione perché deve stare qua con me, è troppo troppo bello. Adesso ve lo apro e ve lo faccio vedere. Volevo anche Mrs. Brick, la teliera, ma non c'era. Mi è dispiaciuto tantissimo, ma non c'era e quindi non l'ho potuto prendere, ma la volevo assolutamente. Questo è chicco, l'ho fatto tutto ovviamente obbligo come in tradizione ed è bellissimo. Io ho visto da altre parti che c'è anche Lumière, ma io li voglio, quelli li voglio, cioè li voglio collezionare tutti. Mi piace tantissimo, ho controllato se era sbeccato, c'è soltanto un puntino ma è tipo fatto normalmente, non è né sbeccato né niente, fatto così ed è stupendo, cioè guardate, è bellissimo, bellissimo veramente. Io per adesso lo tengo così confezionato, ho paura nel toglierlo dalla confezione. Se avevo una vetrinetta li mettevo dietro la vetrinetta senza scatola, però fin quando non ha la mamma la lascerò qua e cercherò una posizione qui dove metterlo. Questo è tutto, aspettate che lo metto qua, non si sono soltanto questi. Sono andata velocissima, spedita, perché desideravo delle cose tipo come chicco, volevo l'atelier ma non c'era, poi calzini, queste cose qua. Volevo sinceramente i cassettini, quelli in plexiglass per sistemare la postazione, ma quelli non c'erano. Quindi ho preso su per giù le cose che di più mi interessavano. Ovviamente proverò i calzini, se sono buoni, la stessa cosa per quanto riguarda le mutande, gli slip. Se sono buoni ne prenderò altri, ne prenderò anche i ragazzi. Questo a me era quello che mi interessava, era inutile comprare altre cose soltanto per fare un mega video haul, perché non ho trovato pigiami, nel senso in pile, belli, spugnosi. Non li ho trovati, quindi mi è sembrato inutile prendere altre cavolatine che poi non avrei utilizzato. Niente, ditemi giù nei commenti se vi sono piaciuti i miei acquisti e soprattutto se mi volete consigliare qualcosa per quanto riguarda gli acquisti da Primark, visto che ce l'ho... visto che ce l'ho vicino. Niente, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grosissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!